Siamo in compagnia di Mauro Lupi, vicepresidente dell'OIAB, a quale chiediamo se la televisione ha un impatto nelle vendite online. Indubbiamente le campagne che prevedono sia la televisione che internet beneficiano l'un l'altra della reciproca visibilità. Naturalmente il mezzo televisivo può contare normalmente di un'audience molto ampia, molto grande, per cui ovviamente qualsiasi campagna sviluppata dalla televisione che punti a promuovere un sito web sviluppa indubbiamente enorme visibilità, grande visibilità e da ricerche di mercato sviluppate anche dagli hub in UK abbiamo dei dati che confermano un incremento molto molto alto delle vendite online quando sono generate da spot televisivi, per capirci. Quindi possiamo dire che la televisione tradizionale lavora insieme al web? Ma assolutamente, diciamo che ogni mezzo di comunicazione a seconda degli obiettivi degli inserzionisti può lavorare a fianco con altri, ma d'altronde qualsiasi mezzo di comunicazione non ha mai soppiantato i precedenti. I nuovi mezzi di comunicazione hanno sempre trovato dei nuovi spazi cercando di puntare su delle specificità e chiaramente internet ne è diversa. Come possiamo dare continuità alle campagne pubblicitarie online? Ma tipicamente la rete è ormai qualcosa che accompagna le persone non stop, quindi durante non solo diversi momenti della giornata ma appunto come si dice in continuità andremo sempre di più verso una connessione come si dice always on cioè saremo sempre connessi e non solo attraverso i pc o i dispositivi mobili ma nel giro di pochi anni ci saranno moltissimi oggetti che saranno costantemente connessi ad internet. Questo fa sì che già oggi diciamo ma ancor più in prospettiva la logica è quella di utilizzare questo tipo di canale per continuare la comunicazione e quindi anche la conversazione con i nostri potenziali consumatori o clienti. Io la ringrazio, quindi ringraziamo Mauro Lupi che è stato con noi. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie.